Salve a tutti ragazzi e benvenuti Oppure devo dire Buon certo amico Benvenuti in questo nuovissimo video di Tamago, siamo tornati da quanto tempo A giocare a Tamago Ci giocavo l'anno scorso A Tamago Visto che il video che ho fatto Prima con le foto E' andato benissimo Ho deciso di portarvi questo Perché sì Mi andava Quindi giocheremo E basta Mamma mia Questo gioco è veramente Scusate mio padre E quindi E basta non ce l'ho E quindi niente Per far cadere tutto Allora ragazzi Oggi siamo qui Per giocare Ehm Stato Oh mio Dio Ok ok va bene va bene Non ci fate caso Allora Molto bello giocare A Tamago Perché è molto divertente Stare a spingere sto uovo De me Mamma mia Per il fatto che E' il fatto che già si è rotto Ora voglio capire qual è l'applicazione che ti fa arrivare già a zero Così poi vediamo Così poi vediamo quello che succede Perché sono anni che vado avanti così Ovviamente porterò tantissimi altri video su Tamago Perché è troppo bene A posto Continuiamo a giocare E quindi Già E' molto Divertente Come vi stavo dicendo Ma perché quando devo registrare Vengono tutti qua Oh che bello Novanta Ehm vabbè Cioè guardate che io dovrei fare Novecento mi pare Ogni volta E' terribile raga Questo gioco io ve lo consiglio Di non scaricarvelo mai Perché è terribile Perché io ci gioco poi Ma Ma che perché Vabbè sto strano io Non ci fate caso Mannaggia Che ci fai sul mio balcone Oh Em Il gatto Eh Cosa ci fai Dai Cosa mi fissi Ma se io vado dentro Fai qualcosa Oh No Vabbè Ma perché sto continuando a giocarci E perché voi state continuando ad esserci Ma dai Andate via Ma Ciao Torni Ma 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 Bu